Ragazzoni miei, salve a tutti, benvenuti e soprattutto ben ritrovati qui sul canale, qui su The Zion Theory, io sono ovviamente Spazio, sono un po' in ritardo con il focus on, diciamola tutta, il formato mensile in cui vado ad analizzare, a focalizzarmi su una delle serie in uscita nel corso del mese, però sapete bene che in quest'ultimo periodo le attenzioni principali sono state, come dire, accalappiate da House of the Dragon e gli Anelli del Potere, che hanno concentrato tutte le attese, tutte, come dire, le attenzioni per l'appunto su di loro, però nel mese di settembre c'è un'altra serie interessante che potrebbe fare al caso nostro, ovvero al caso di noi nerd di prima categoria, sto parlando di Andor, una serie tratta dall'universo di Guerre Stellari che possiamo trovare ovviamente sul catalogo Disney Plus a partire dal 21 di settembre, una serie che potrebbe in una qualche maniera, o quantomeno ci si aspetta e si spera che possa risollevare le sorti delle ultime produzioni Disney Plus che non hanno convinto fino in fondo, sto parlando della serie che riguarda Obi-Wan Kenobi, ma anche quella su Boba Fett che non hanno, diciamo, saputo valorizzarsi e soprattutto non si sono attestate allo stesso livello di The Mandalorian che rimane sicuramente la serie tratta dall'universo di Star Wars più riuscita fino a questo momento. Prima di parlare di Andor ragazzi, però, vi ricordo come sempre le cose fondamentali del canale, le solite premesse, ovvero iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, mi raccomando un piccolo gesto che può essere molto importante comunque per la crescita del canale, lasciate anche un like qualora il contenuto possa essere di vostro gradimento, seguitemi anche sui social, trovate tutti i link qui in descrizione, quindi basta insomma andare qui sotto a dare un'occhiata per seguirmi anche sui social, in particolar modo seguitemi su Instagram che è il social che seguo un po' di più, attivate ovviamente la campanella, escono due video a settimana, uno è il mercoledì e uno è il venerdì, per cui per rimanere sempre aggiornati attivate la campanella e vi anticipo che nei prossimi giorni ci saranno dei video aggiuntivi per parlare degli ultimi due episodi di House of the Dragon, per cui usciranno anche dei video il lunedì, quindi ci sarà questa edizione deluxe nei prossimi giorni con tre video a settimana, poi ovviamente vi aggiornerò nei prossimi giorni. Fatte come al solito le consuete premesse, miei cari, parliamo di Andor. Andor è una serie che, dicevo nell'incipit del video, sono un po' in ritardo con questo focus on, perché solitamente nel focus on parlo prima che la serie poi esca a tutti gli effetti, invece qui parliamo di una serie di cui già potete vedere i primi tre episodi, fra l'altro proprio oggi esce il quarto, quindi sono quattro in totale gli episodi che potete trovare, una produzione che riprende le vicende narrate in Rogue One, il film spin-off che è uscito qualche anno fa su Star Wars. Questa serie si ambienta cinque anni prima di Rogue One e ci parla della figura di Cassian Andor, come suggerisce del resto lo stesso titolo, una serie, ragazzi, di cui ho visto i primi due episodi e vi devo dire che mi sembra una produzione completamente diversa dalle ultime che abbiamo visto riguardanti l'universo di Guerre Stellari, perché ci pone veramente da, in un punto, ci fa vedere un punto di vista completamente diverso della storia di Star Wars in un contesto altrettanto diverso. Quindi, se vogliamo, c'è anche un qualcosa di nuovo, di innovativo che viene introdotto in questa serie. I toni, infatti, sono molto più realistici, sono molto più crudi e lo stesso protagonista, infatti, non è un Jedi, non è un Mandaloriano, quindi un personaggio che ha delle capacità e dei poteri magari fuori dal comune, ma invece è un umano semplice semplice, insomma, che cerca di tirare un po' avanti, che ci fa vedere una prospettiva completamente diversa, che non avevamo comunque visto nelle precedenti produzioni di Star Wars, una prospettiva più legata a una figura più ambigua, un po' più combattuta, e che non rappresenta, appunto, come ho detto poco fa, il classico eroe, ma che ci parla di un Andor, comunque, che vive nei bassi fondi di Ferrix, dove è ambientata, appunto, la serie, che svolge delle attività di contrabbando, per cui, se vogliamo, anche da questo punto di vista, dal punto di vista morale, non è un personaggio dei più classici, per l'appunto, di Star Wars, ed è per questo che risulta, magari, anche più interessante, perché ci fa vedere una persona che, magari, può evolversi maggiormente, può far vedere delle sfaccettature, appunto, differenti rispetto a quelle a cui siamo stati sempre abituati. Quindi un personaggio sicuramente diverso, un anti-eroe, che poi, sappiamo, andrà a rivestire un ruolo importante nell'alleanza ribelle, per cui, comunque, ha degli atteggiamenti, ha dei comportamenti ai limiti, se vogliamo, della legalità, proprio perché, come ho detto poco fa, si interessa a delle attività di contrabbando, ma che, comunque, sia a uno spirito, come dire, buono nel suo profondo, ha una personalità, sicuramente, che non possiamo definire negativa, anzi, però, la cosa interessante è proprio, comunque, assistere a un qualcosa di diverso, a un'evoluzione di un personaggio, che ci fa vedere come, partendo, per l'appunto, dai bassi fondi, poi, possa diventare un protagonista importante all'interno delle storie di Guerra Stellari. In questi primi due episodi, oltre al protagonista, Andor, che mi sembra offrire un qualcosa, appunto, di diverso, degli spunti completamente nuovi, per quanto riguarda le storie, appunto, che abbiamo visto in questi ultimi mesi, stessa cosa si può dire per il contesto e l'ambientazione nella quale ci andiamo a muovere, perché Ferrix è comunque un contesto differente rispetto a Tatooine, che oramai abbiamo imparato a conoscere a memoria, oppure altre ambientazioni più cyberpunk e più futuristiche, ma invece qui viviamo proprio e respiriamo il concetto, no, di bassi fondi. Infatti, tutta l'ambientazione sembra quasi più restituirci delle vibrazioni, magari, per quanto riguarda, appunto, i bassi fondi che possiamo trovare in Sud America, in Centro America. Altra cosa interessante che mi ha colpito in questi episodi è stato vedere come i componenti delle forze dell'ordine, affiliate un po' all'impero, rappresentino, facciano vedere, degli elementi al loro interno che non hanno quegli ideali così forti e così estremi presenti, appunto, nell'impero, come sappiamo bene, ma ci sono delle figure che magari hanno più l'ambizione di vedere un po' il proprio tornaconto, che a livello morale sono distaccate da quelli che sono, appunto, gli ideali dell'impero e anche questa cosa, comunque, mi ha colpito perché rientra, appunto, mi ripeto, ma è questa forse la cosa più importante e più positiva, almeno di questi primi episodi, rientra in un qualcosa che non siamo abituati a vedere solitamente, non siamo stati abituati a vedere solitamente nei film e nelle serie di Guerre Stellare. Quindi il taglio della serie, ragazzi, è quasi più di una serie di spionaggio, thriller, diciamo, no? Che si discosta dalle ultime che abbiamo visto con un personaggio, quindi, che rappresenta un antieroe rispetto ai Jedi, rispetto al Mandaloriano visto in The Mandalorian, un contesto che si discosta dagli altri che abbiamo, appunto, visto nelle ultime produzioni, per una serie, una produzione che ci conferisce dei toni, quindi, più realistici, più nudi, crudi e che in queste prime apparizioni, in questi primi episodi, riesce, in qualche maniera, a dare una ventata d'aria fresca. Vedremo, poi, quale sarà, appunto, lo sviluppo, ma sicuramente questi episodi che ho visto mi hanno dato proprio questa sensazione, ovvero di mettermi di fronte a un qualcosa che rappresenta una ventata d'aria fresca. Staremo a vedere, poi, ne parleremo sicuramente in futuro di Andor, facendo una recensione completa, poi vediamo se ci sarà il tempo e modo anche di inserire qualcos'altro. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, ragazzi, se la state vedendo. So che è un periodo fitto di produzioni e di serie, per cui, magari, è difficile completare, insomma, la visione di tutte queste serie, però, nel caso, insomma, fatemi sapere, come sempre, la vostra. Noi ci vediamo al prossimo video, ovvero venerdì, in cui parliamo inevitabilmente della puntata degli Anelli del Potere, per cui, ragazzi, ci vediamo, appunto, venerdì. Un saluto a tutti da Spazio.